cosa vuoi dalla tua automobile che sia sicura prima di tutto comoda confortevole spaziosa e magari anche bella se costasse poco poi sarebbe il massimo no non chiedi troppo vieni all'autosalune car for you l'automobile che fa per te è qui che ti aspetta anche con la formula a noleggio fidati della nostra esperienza siamo nel settore da oltre dieci anni e ti offriamo una scelta straordinaria di auto plurimarche italiane ed estere nuove e usate aziendali e a chilometro zero autosaloni car for you vendita e noleggio sulla statale 106 ionica condo furi marina sedi anche a milano bologna info 0965 78 48 93 car for you condo furi chiocciola gmail.com